E' Jessica Fontana la nuova Miss Berceto. Jessica, 21enne, commessa di Parma, si è aggiudicata il titolo durante la selezione regionale di Miss Italia, avvenuta sabato 30 giugno nel paese montano. Jessica, lunghi capelli biondi, scintillanti occhi azzurri, un fisico che non ha bisogno di complimenti ed un sorriso da togliere il respiro, era raggiante dopo l'incoronazione avvenuta per mano del sindaco Lucchi e del vice Brusini. Nella cornice della piazza dei Canoni sono entrate in passerella in abito da sera 20 ragazze che per tutta la sera hanno ricevuto gli applausi delle circa 500 persone presenti. La prima passerella in abito da sera è stata solo valutativa, dopo è iniziata la vera sfida, le ragazze hanno sfilato prima in pareo e poi in costume da bagno e in chiusura ancora in pareo per farsi ammirare dal pubblico. Dopo la consegna di varie fasce ad altre ragazze, il presentatore Eros Ceruti ha proclamato la nuova Miss Berceto, ovvero Jessica Fontana.